Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpa. L'undebole flusso umido dai quadranti meridionali sta determinando la nuvolosità compatta sulla nostra regione in questo giovedì 26 aprile, mentre sulla pianura padana abbiamo prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. In giornata ancora possibili isolati piovaschi in corrispondenza degli addensamenti più consistenti e ancora possibili locali nebbie o foschie in sconfinamento dal mare. Progressiva diminuzione della nuvolosità da Levante per la rotazione del flusso dei quadranti settentrionali da metà pomeriggio con possibili locali addensamenti sui rilievi del Levante. Venti deboli con frequenti brezze e tendenza a disporsi dal nord o nord est. Mare poco mosso, temperature massime stazionare lungo la costa tra 18 e 22 gradi nelle zone interne tra 18 e 21 gradi. Domani venerdì 27 aprile, tempo stabile con cielo in prevalenza soleggiato sulla costa, salvo temporanei passaggi di nubi, stratiformi, locali addensamenti nelle zone interne più probabili in tarda mattinata nel corso delle ore più calde. Venti deboli e moderati da nord a nord est con locali rinforzi nella parte centrale della regione nella seconda parte della giornata, locali brezze a Levante. Mare poco mosso, localmente mosso a ponente per vento da nord, temperature minime in diminuzione lungo la costa intorno a 15-16 gradi nelle zone interne tra 9 e 12 gradi. Massime in aumento lungo la costa intorno 23-24 gradi nelle zone interne tra 19 e 22 gradi. Dopodomani sabato 28 aprile, nuvolosità variabile con prevalenza di schierite sulla costa e addensamenti nelle zone interne, parziale aumento delle condizioni di instabilità con possibili locali rovesci di deboli o al più moderata intensità più probabili sui rilievi. Venti al mattino deboli o moderati da nord a nord est con locali rinforzi fino a 50 km orari nelle prime ore della notte. Nel pomeriggio in calo fino a deboli da nord est a ponente, sud est a Levante. Mare poco mosso sotto costa, localmente molto mosso a largo, in calo. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 15-17 gradi nelle zone interne tra 9 e 15 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 22 e 26 gradi nelle zone interne tra 21 e 25 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. A risentirci!